Qualcuno dice politicamente che lei non può farla troppo lunga perché le terme sono state chiuse da crocetta e quindi tutto si sta lavorando sulle macerie lasciate da crocetta. Come replica questa accusa? Questa è soltanto un aspetto demagogico di chi vuole politicizzare in questo momento un problema di un territorio non di una parte politica dando delle responsabilità ad un deputato che oggi si chiama Michele Catanzaro e che fa parte di un partito del Partito Democratico ma io con crocetta forse non ho mai veramente né parlato né interloquito né affrontato temi. Voglio veramente invitare un po' tutti a trovare altre argomentazioni politiche per attaccare me o attaccare chiunque diciamo in questo momento facendo riferimenti col passato perché io non ho avuto né presenze in giunta con crocetta né non sono stato nemmeno deputato regionale della scorsa legislatura. Con crocetta io non ho mai avuto a che fare sono deputato di questa legislatura musumeci da tre anni e mezzo perde tempo perché vuole recuperare il ritardo delle termi 10 reale. Così oggi al nostro telegiornale il parlamentare regionale del PD Michele Catanzaro il quale commenta le dichiarazioni di ieri di Margherita Larocca Ruvolo in merito ad un presunto eminente finanziamento per recuperare il patrimonio termale deperito. La mia collega Larocca Ruvolo ho ascoltato dalle sue parole la voce del presidente della regione una cosa un po' insolita. È chiaro che forse questa è l'ultima trovata dopo tre anni e mezzo l'altro coniglio che esce dal cilindro il presidente della regione. Non vorrei che fosse l'ennesima presa di tempo per appunto demandare il problema delle terme di Sciacca. Se non fossero trascorsi sei anni dalla chiusura delle terme sarebbe una buona idea dice il deputato Saccenze il quale poi accusa presidente e vicepresidente della regione di non comunicare tra di loro. Perché io lunedì sono stato nella stanza dell'assessore Armao il quale con grande confusione forse tra il presidente della regione e il vicepresidente dell'assessore non c'è dialogo. Magari sarà la distanza dei chilometri da un palazzo ad un altro. L'assessore Armao annunciava che mercoledì a Roma avrebbe incontrato i dirigenti INAIL. Nel frattempo invece ieri abbiamo scoperto dalle dichiarazioni che la vicenda INAIL è chiusa. Poi abbiamo saputo che INAIL attendeva delle risposte da parte della presidenza della regione che non sono mai arrivate. Quindi c'è qualcosa che a noi non torna anche perché INAIL non è stata un'invenzione del sindaco o di un deputato. Ma è stata una dichiarazione fatta da parte del presidente della regione che parlava di un incontro avuto con Feder Terme, con INAIL. Però ad oggi noi non abbiamo e non sappiamo quello che sta accadendo con le Terme. Catanzaro infine ribadisce l'intendimento di andare avanti con la marcia su Palermo. Però non vorrei che il presidente della regione siciliana, essendo della provincia di Catania e essendoci lì a Cireale, che è in una fase di liquidazione un po', anzi molto indietro a Sciacca, non ci stia facendo perdere tempo su questa vicenda del nostro territorio e del nostro comprensorio delle Terme di Sciacca per fare recuperare a Cireale e trattare a Cireale e a Sciacca insieme. Perché se così fosse sarebbe davvero grave. Invito vivamente chi oggi ha un ruolo politico ad essere responsabile come lo sono stato fino ad ora io. Perché io da deputato di opposizione ho concesso a questo governo regionale tutto il tempo per trovare una soluzione sulle Terme. Lo sa l'assessore Armao, lo sa anche il presidente della regione. Adesso non si può più attendere, adesso basta. Se è bastato soltanto un annuncio in conferenza stampa del sindaco per la marcia su Palermo e quindi si sono smossi addirittura, c'è una giunta veloce per mettere dei soldi per i beni patrimoniali delle Terme di Sciacca e allora dico io andiamo avanti perché noi vogliamo le certezze.